La tragedia che ha colpito la studentessa Denise Galatà di 19 anni durante una gita scolastica sul fiume Lao ha suscitato un'ondata di dolore e indignazione nella comunità. L'incidente, lo ricordiamo, che avvenuto il 30 maggio dello scorso anno ha messo in luce una serie di negligenze ed errori che hanno portato alla perdita della vita della ragazza, sollevando interrogativi sulla sicurezza delle attività fluviali. Secondo quanto emerso dalle indagini condotte dal procuratore di Castrovillari, Alessandro D'Alessio, e dal consulente tecnico Giuseppe Viaggiani, l'equipaggio era composto da sette gommoni, ciascuno con una guida e studenti del liceo Giuseppe Richichi di Polistera. La discesa del fiume sembrava procedere senza troppi intoppi, fino a quando, in una serie di eventi sfortunati, diversi partecipanti caddero in acqua a causa degli impatti dei natanti contro le rocce. Denise Galatagia, scossa dalle difficoltà incontrate durante il percorso, si trovò coinvolta in due cadute in acqua, la seconda delle quali risultò fatale. Il consulente Viaggiani ha evidenziato l'inadeguatezza dell'equipaggiamento assegnato a Denise, in particolare un casco troppo grande che si rivelò essere fatalmente perduto durante l'incidente. Inoltre è emersa una sottovalutazione delle condizioni della ragazza prima dell'evento tragico, nonostante fosse osservata in evidente stato di agitazione e paura. Le responsabilità sembrano quindi ricadere anche sulle guide, alcune delle quali non erano in possesso delle necessarie qualifiche e che hanno scelto un percorso non adatte alle condizioni dei partecipanti del corso dell'acqua. Inoltre l'ordinanza del sindaco di Laino Borgo, che avvisava del rischio meteo e invitava a evitare attività fluviali, non è stata rispettata, contribuendo così al verificarsi dell'incidente. Nonostante gli indagati si proclamano ancora oggi innocenti, le indagini proseguono per definire le responsabilità e garantire giustizia per Denise Galatà e la sua famiglia. Le perizie svolte dalla difesa dovrebbero fornire ulteriori elementi per comprendere appieno le circostanze dell'incidente. La morte di Denise ha messo in luce la necessità di rafforzare i controlli e le normative riguardanti le attività fluviali, garantendo la sicurezza dei partecipanti e prevenendo futuri incidenti simili. Grazie. Grazie.